Ancora calcio, parliamo del Chieti, ormai fatta per Amet Fall, la società neroverde dunque piazza un altro colpo in attacco. Oggi è il giorno della firma per il 32enne centravanti senegalese. Ieri Fall è arrivato in città e ha incontrato i direttori Demetrio Sartiano e Gaetano Alessandria e il presidente onorario Cristian Poglio. Il vertice è servito per trovare l'accordo che sarà ratificato in giornata. Il giocatore lo scorso anno ha iniziato la stagione al Portodascoli, poi a dicembre si è trasferito al Tivoli dove ha realizzato sette reti.